Benvenuti in questo splendido giorno della settimana, bentornati su Power Pizza, abbiamo oggi con noi un ospite di super eccezione, quindi buongiorno da me, Lorro, nell'angolo blu avete il ciccione velato e nell'angolo rosso eccezionalmente Nessuno, perfetto, siamo in due Non avevo intenzione di introdurre io, ma di lasciarti la possibilità di outro introdurti, perché siamo così su Power Pizza magnanimi Esatto Ciao a tutti Ciao Andrea Ciao, 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 io sono Andrea Sesta e le mie misure sono 90-60-90 Andrea Sesta è la donna che tutti desidererete È così vero, è così vero Sì, sì, anche perché ho la barba, quindi, come dire, piaccio Donna barbutta, sempre piaciuta, diceva nessuno mai, qualcuno che ha inventato un detto non vero Gimli, probabilmente Andrea è un ospite eccezionale, lo potrete, lo conoscerete probabilmente senza conoscerlo anche per via di uno delle sue creature, ovvero Lercio E per la cosa che riempie le mie settimane di gioia, ovvero Giovedì Mim Sì, 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 che è sempre una cosa molto bella Ricordiamo anche che, tipo, ha una H fra il nome e il cognome, come ho scoperto poc'anzi Per distanziarsi da un famosissimo pittore nato nel 72 a Sestri Levante che è un omonimo Di cui a nessuno importa assolutamente niente perché non è Andrea Sesta, invece Invece Andrea Sesta è una persona bella e che oggi sostituisce una persona meno bella che è Sio Infatti questa puntata secondo me segna un po' un traguardo, non solo la dodicesima ma è anche la prima senza Sio E quindi vuol dire che stiamo crescendo come podcast e stiamo diminuendo i contenuti inutili a favore di contenuti molto importanti Quindi dalla prossima dobbiamo tagliarci noi stessi La naturale evoluzione di questo podcast sarà darlo ad altri da fare e prendere i meriti Come community che un po' alla volta sono finiti tutti i protagonisti principali hanno presi i secondari Li hanno messi dentro la storia principale La cosa peculiare è che in questo caso segnerà l'innalzamento della qualità complessiva del podcast Ma poi ci sono anche degli storici che raccontano che appunto togliendo i personaggi principali e inserendone di secondari o di nuovi La qualità aumenta, tipo la nona stagione di Scrubs Parlando, aggacciandosi subito e parlando di stagioni di serie televisive di successo Hai veramente toccato con mano la seconda di Iron Fist? Sì, grandissima battutona di Lor, perché toccate con mano Non era voluta, scusate Beh era una grandissima battutona Toccato con pugno Più che altro sì, si può dire che anche la seconda stagione di Iron Fist si ha un pugno nell'occhio Tadumpim! Secondo me è pessima È meglio della prima Però giustamente ci vuole poco di essere meglio tipo di una secchiata di feci Allora mi rendo conto che non posso fare domande tanto mirate per il fatto che non l'ho ancora vista E probabilmente non la vedrò mai Ma lascia che ti chiedo solo una cosa Sono sempre dei cagnacci terribili dal punto di vista di arti marziali o tipo li hanno allenati in qualche maniera agli attori? No, sono comunque dei cani Nel senso hanno fatto, hanno scelto una, hanno preso una decisione sensatissima a livello di sceneggiatura Cioè dire tipo, perfetto, prendiamo Danny Rand È un personaggio che non funziona Che secondo tutti è stato castato malissimo Perché l'attore di cui non ricordo adesso il nome Non c'entra una, come si chiama? Finn Jones Tyrell di Game of Thrones È lui! Ah, giusto Vabbè comunque, cioè non c'entra una bene amata fava con il personaggio di Iron Fist dei fumetti E hanno spostato l'attenzione tantissimo su quella che nella prima stagione era la sua spalla Cioè Colleen Wing Che regge lo schermo molto molto meglio Hanno messo anche tantissime scene in più con Misty Knight Che è tipo la poliziotta nera con il braccio bionico Karen Luke Cage Esatto, principale di Luke Cage È una delle donne più belle che esistano nell'universo Sì, madonna il Dio E tutte le scene in cui infatti non c'è Danny Rand Funzionano più o meno bene Però rimane che comunque le coreografie sono pessime Io non riesco a capire come abbiano fatto delle coreografie bellissime Cioè in serie come Daredevil E poi nell'unica che parla solo e unicamente di arti marziali Fanno tutti schifo Sì, era la grossa domanda che sollevava la prima Dicevi, Andre? Quello che mi sconvolge è che il personaggio di Iron Fist Visto che gli metti una maschera in testa Puoi far fare l'attore all'attore E dopo le scene di arti marziali A chiunque sia in grado di indossare una maschera E più o meno abbia quel fisico lì A chiunque sia in grado di indossare una maschera Invece hanno deciso No, noi abbiamo un personaggio con la maschera Ma lo facciamo combattere senza maschera Sì E quindi hanno sbagliato tantissimo su sta cosa Che è una cosa, esatto È una cosa che mi aveva incuriosito un sacco Perché in genere sono quelle cose che possono permettersi di chiedere Attori, insomma, con un potere contrattuale decisamente diverso Da Coso, da Finn Jones Sai, magari tipo Sono famoso, non voglio girare con una maschera Tipo il 90% della serie Ma, cioè, Finn Jones, onestamente Chi cazzo è? Oltre al fatto che Cioè, è anche un cagnaccio come attore No, ma poi è proprio tutto sbagliato In questa stagione, ad esempio, si esplora tutta la parte di storia Che vede lui e Davos Prendersi a cazzotti in faccia E partiamo dal presupposto che hanno toppato il personaggio di Davos Perché non è Cioè, nel senso Capisco che possa essere semplicemente ispirato a Il Davos dei fumetti Però c'è un problema fondamentale Nel senso che sono Disclaimer, io non ho mai letto Iron Fist Ricordiamo agli amici a casa Chi è questo Davos nella prima stagione Allora, nella prima stagione è tipo l'amichetto D'infanzia di Danny Rand Che torna da Conlan E che gli dice tipo Ah, tu te ne sei andato Ed è successo un casino E ora sono venuto a riprenderti Ah, boia, l'avevo rimosso completamente Ok, grazie Anche solo esteticamente Nulla che... Cioè, nel senso Nulla come critica verso la persona, eccetera Ma è un personaggio super dimenticabile Hanno scelto un attore che tipo Nè È una faccia X Cioè, nel senso È ok Sembra una persona L'hanno fatto diventare il nemico principale Nella seconda stagione C'è tutta una storia Nei fumetti di Iron Fist In cui lui sarebbe il... Adesso in italiano non so come si dica Però lo Steel Serpent Il serpente d'acciaio Eccetera, eccetera Ed è un cattivone Premesso che nei fumetti È tipo un gigantesco Ammasso di muscoli enorme Che fa malissimo a tutti Ed è tipo il miglior amico del padre Di Danny Rand Ma in realtà i dettagli, secondo me Cioè, nel senso Tu puoi prendere un'idea E cambiarla Magari non snaturarla Però comunque cambiarla In tutta una serie di elementi Il problema è che poi La devi anche far funzionare E quale premesse Erano proprio sbagliate È quello Cioè, ma poi è tutto brutto E poi Io ho questo problema Gli mettono un cappuccio da idiota A un certo punto Dai, le indossa la maschera O a un collettone altissimo Neanche un collettone altissimo C'è una scena in cui Fanno vedere Praticamente lo scontro finale Fra loro due Da giovincelli Per decidere Chi avrebbe poi Sfidato Shaolao Il drago Per diventare l'Iron Fist E loro hanno la maschera E quello è l'unico riferimento Al costume originale Del personaggio Eccetera Ma poi Andrea Tu che l'hai vista E sai Di cosa sto parlando Nella prima stagione Uno dei problemi Era il fatto che Tipo Questa cosa del pugno Che si illumina Era resa malissimo Sì A me era una delle poche cose Che era appiazionata Scusa No, era tipo Un minicicciolo Non so se li chiamate così Anche voi In mano Sì Sì, sì È proprio il termine scientifico Minicicciolo Tipo un petardo in mano Ma poi anche perché Ci sono cento nemici Intorno a te Che sono ovviamente Tipo degli pseudoninja Cioè tu cosa fai Tipo Ti inginocchi Carichi il pugno E poi tiri un pugno Per terra Cioè era proprio Una cosa tipo Anticlimatica Eccetera E in questa stagione L'hanno portato All'esasperazione Questa cosa Sì Nessuno si colpisce Non so se hai mai visto Nessuno si colpisce Con i pugni Carichi Se non per terra Non c'è una scena In cui uno si tira Un pugno Carico Dato che ci sono Più iron fist In questa cosa Forse non hai colto Il messaggio pacifisto Della seconda stagione Esatto Forse in iron In una serie Che si chiama iron fist Il vero nemico È il cemento Contro la cementificazione Forzata del suolo Esatto È un messaggio ecologista In realtà Se ci pensi Per me è un super no Ed è una stagione Cioè mi ha annoiato Tantissimo E non Il finale apre Adesso a Centomila iron fist Di poteri diversi Che sanno fare mille cose Cioè c'è una scena finale Che veramente tipo Mi sarei fatto crescere i capelli Solo per strapparmeli Puoi farlo ancora Con i peli delle narici Eh Sì è vero Esatto E anche con il pizzetto Con il mio grandioso pizzetto Sentite ascoltatori Il potere del mio pizzetto Giusto per finire C'è una cosa positiva Su iron fist Poi lo smetto di parlare Che è Ha vinto Un premio Su Rotten Tomatoes Nel senso Ha stabilito Scusate Ha stabilito un record Su Rotten Tomatoes Con la serie Che ha fatto Il maggior salto Di Tomatometro Tra la prima E la seconda stagione Perché la prima Aveva tipo Il 6% Una cosa simile E la seconda È normale Però La distanza È un nuovo record Non era mai successo A parte che io Disprezzo Rotten Tomatoes Però per curiosità Quant'è che è? Adesso Devo guardarlo Mentre vai parlare Di altri Lo copio in collo dopo Non è un problema Tra l'altro Curiosamente A parte che siamo riusciti Non so come A parlare per 10 minuti Di Iron Fist 2 Ma da quello che Avevo capito Anche Andrea oggi Voleva parlare Di uno sport Di arti marziali Esatto Allora Vedo che è studiato Io vorrei parlare Dello sport Più violento Al mondo Cioè Gli scacchi Rulo di tamburi No Prima però Lasciami dire Che io mi sento Molto onorato Di essere qui Con voi Partecipare a questo Podcast Mi sento anche un po' Come se Ci fosse una mostra Di Picasso Mancassero un paio di quadri Gli avessero beccato Uno per strada Gli avessero detto Tu che sai Usare le matite Puoi disegnare qualcosa Ecco io mi sento Quella matita In questo momento Rispetto La cosa divertente È che questa similitudine Cioè il quadro di Picasso Che manca Sarebbe Sio No più che altro Cioè questa è la vera storia Di come Sio Iniziato a fare Come Senti ci serve Un barbone Che sappia tenere in mano Una matita Fa ridere perché Sio Non esiste in realtà Non era ancora Non rivelarlo Cosa Questa parte Toglila Questa parte Toglila Scusa Ok Scacchi Sì no Volevo parlarvi Di scacchi Perché è Non solo uno sporto Violento Ma se ci pensate Gli scacchi Sono quella cosa Per cui puoi dire Tipo Con la torre Ho mangiato il cavallo Che è vero Che è una frase Che presa fuori Dal contesto degli scacchi Non ha assolutamente senso Ed è di una violenza Inaudita Sì Il re è impazzito Il re è matto Scacco matto Ecco io vorrei parlarvi Però di un documentario Che avevo visto Tempo fa Me ne ero completamente Dimenticato Ma L'ho ripescato Recentemente Che è Bobby Fischer Against the World Bobby Fischer Contro il mondo E parla appunto Di Bobby Fischer Che era un grandissimo Campione di scacchi Solo che aveva Qualche piccolo problema Nel senso che era matto Era completamente matto Sì Beh giocava a scacchi Cosa ti aspetti Il documentario A me è anche piaciuto Però cioè fondamentalmente Il documentario Mostra una persona Completamente folle Che collateralmente Tipo è uno dei migliori Scacchisti Ma esiste Sì ma infatti tipo Mi sembra che verso la fine Ci sia Lui si dice Io non sono Un genio Che gioca a scacchi Sì 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 Io sono Scusami Lo posso Io non sono Un genio Degli scacchi Io sono Un genio Che già che c'è Gioca a scacchi Facciamo un passo indietro Diamo ai nostri ascoltatori Un minimo di infarinatura Per chi non dovesse Conoscere Bobby Fischer Che è un personaggio Piuttosto colorito Sì Allora Questo A 15 anni Campione di scacchi Capito Degli Stati Uniti D'America Perché stiamo parlando Di un americano Negli anni Inizio anni 60 Diventa proprio Campione Davvero a livello nazionale A livello mondiale Famoso Ma quello per cui viene In un momento storico In cui gli scacchi Erano russi Gli scacchi erano Esattamente Era proprio Erano russi Nel senso che Continuavano a vincere Campioni del mondo Sovietici E Gli scacchi Erano un po' come Il ping pong Durante Forrest Gump Per intendersi Erano veramente Un modo Per affermare La supremazia Americana O sovietica Nei confronti Del mondo Anche dal punto Di vista intellettuale Non soltanto Con le armi Quindi cosa fa Fischer nel 1972 Sfida il campione Russo Spaschi E lo sfida In Islanda C'è tutta una Parte centrale Anche di questo documentario Che racconta Dovrebbero essere 24 partite Chi vinceva Tra i primi 12 match Avrebbe potuto Freggiarsi Del titolo Di campione Del mondo 24 partite Sono tantissime Sono giochi Così lunghi Sì Infatti E in genere Lo dicono Durante il documentario Che può durare Dai due Ai tre mesi Il match Perché ovviamente Insomma Sono partite Che non durano Cinque minuti Ciascuna Tra l'altro Scusate Ma sembra Tantissimo Il setup Di uno Shonen Qualunque In cui due Grandi Campioni Vanno in Islanda E si sfidano Per tre mesi Sotto Una Una cascata Gelata Tipo Vestiti Soltanto Dei loro Scacchi Ed è una delle cose belle Di questo documentario Perché come inizia Sembra esattamente Tipo l'inizio Di uno di quei Cioè potrebbe essere Com'è che si chiamava Quello sul Go Icaruno Go Cioè dove c'è un ragazzino Super geniale Però completamente Autistico E fissato solo su una cosa Che batte tutti E inizia a sfidare il mondo Con l'unica cosa Che sa fare Comunque si Diceva Andrea Dell'Islanda E c'è tutto un setup Divertente alla cosa Perché è un pochino Più complicata Di come Di come l'abbiamo detto Ah sì sì Perché ovviamente Uno non poteva andare A casa dell'altro Ad esempio Perché c'erano Qualche piccoli problemi Tanto questa cosa qua Di fare partite Di scacchi In posti Difficili da raggiungere Anche da un punto di vista Politico Ritorna successivamente Nella vita di Fisher E ovviamente Nel documentario Isacerbato Perché lui Prendete Nel 72 Vince Scusate lo spoiler Ma come dire Lo diamo per scontato Visto che sono passati 50 anni 40 anni Possiamo parlare Di Che mora Albusilente Possiamo dire anche Che Fisher ha vinto Nel 72 Anche se viviamo In un momento storico Dove qualcuno Potrebbe comunque Accusarci Di avere spoilerato Un documentario Su uno vissuto Nel sì Potrebbe succedere Ecco Nel 92 Fa un'altra partita Sempre contro Spasschi Però in Jugoslavia In un momento felice E tranquillo Per la Jugoslavia E in un momento In cui non c'era Tipo una guerra In Jugoslavia Ma loro con il potere Degli scacchi L'avrebbero fermata Qui dove il documentario Diventa in realtà Quello di Beyblade Perché gli scacchi Prendono vita E crea questo Muro gigantesco Di torri Questi alfieri Che lanciano Dei laser Contro Le armate Ecco Sì Io credo Nel cuore Degli scacchi Sì E tra l'altro Il momento in cui Si trovano a doversi Incontrare Si trovano a incontrarsi In Jugoslavia Segna anche il momento In cui il documentario Ha un attimo Un cambio di rotta E inizia a incentrarsi Più sulla figura Umana Di Fisher Che non tanto Sulla figura Da scacchista In cui realizzi Che è completamente Fuori con tutto Sì Ma Allora Da un punto Adesso Senza stare Nelle questioni cliniche Che non ci interessano Però umanamente Questo qui è un ragazzo Che ha 29 anni È diventato Campione del mondo E lui I primi 29 anni Della sua vita Li ha passati A dire Voglio diventare Campione del mondo Di scacchi Ok Dopo Arrivi a 29 anni E un giorno Sei campione del mondo E cosa fai? Cioè La tua vita Perde completamente Di senso Ah ma quindi È un dramma Non è un documentario Beh non è una storia umana Proprio felicissima In effetti No perché dopo Sì Dopo lui per un po' Non può tornare in America Perché appunto Gli davano la caccia Perché lui non poteva andare In Jugoslavia C'era l'embargo E tutto quanto Sì c'era appunto la guerra Non poteva Sì no Gli Stati Uniti Avevano detto Gli americani Non andate in Jugoslavia E lui ha detto Sai che c'è Io ci vado lo stesso Che io Stavo cercando un po' Un paragone Perché noi adesso Un campione di scacchi Che vogliono andare in Jugoslavia Per battere un vecchio Amico nemico Non ha molto senso Però mi sono immaginato Come se la nazionale Del 2006 Ok Cioè tipo se Materazzi Sfidasse la nazionale francese Del 2006 Però in Corea del Nord Così Si rende come Così Solo per il LOL Perché potevano farla ovunque E hanno deciso di farla lì In Corea del Nord E batteremo il comunismo Coreano Nord Coreano Con i meme E le testate di Materazzi Gli scacchi Possono essere così brutali Gli scacchi Sì E veramente Questo documentario Ci insegna esattamente Quello che possono essere brutali In realtà Senza neanche Senza neanche farlo apposta Mi volevo ricollegare A una cosa Di cui abbiamo parlato Nell'ultimo episodio Ovvero Vi ricordate che Avevo accennato Di Patrick William Che è quel tipo Che fa video su YouTube Dicevo di Quel video Che aveva fatto Sulle tecniche Di ripresa In Guerre Stellari Sì In realtà È uscito settimana scorsa Un No non settimana scorsa Perdonami È uscito un paio di settimane fa Questo video Che ha titolato Shut up About plot holes Non so se ti è capitato Di vederlo Yes E la cosa divertente E la cosa divertente di questo video È che allora Lui solleva dei punti validi Cioè fondamentalmente Critica Tutti quegli YouTuber Opinionisti Della domenica Che ha Come Unico strumento critico Verso Una serie Un film Tirano fuori plot holes Bucchi di sceneggiatura Cioè hanno un nome in italiano Sì Bucchi di trama Forse Bucchi di trama Cioè veramente disastrosi A livello di sceneggiatura E quindi si è sollevata Tutta Si è creata Tutta una discussione Intorno a questo video Che è interessante Perché nessuna Delle due parti Ha completamente ragione O Fine È esattamente questo Che volevo dire Io volevo lasciarti finire Io ho un po' Il dente avvelenato Nei confronti di quel video Esatto Ed ero questo Era da questo Che volevo arrivare Ed ero curioso di sentire No è che Allora Fondamentalmente Premesso che Sotto certi punti di vista Ha ragione Nel senso che Da un certo punto in avanti Lui si è fatto anche Tutta la ricerca In cui è andato Dal 2006 A vedere Quando si parlava Su internet Di plot holes E non se ne parlava Fino al 2010 In realtà Dove poi è nato CinemaSins Che è un canale Che tu odi tantissimo Giusto? CinemaSins È Vabbè Nel senso È veramente tossico Come cosa Ma sono i primi Loro che lo fanno Sono i primi A esserne consapevoli Ci marciano sopra Quindi Sì Ma poi è un canale Umoristico Sì CinemaSins Nel 2000 Quando hai iniziato Che ti riassumevo Un film in due minuti Ti trovavo una ventina Di errori Ma tipo la bottiglia In un posto diverso Ci stava Quando hai iniziato A fare 200 errori Il cui primo È sempre i 50 secondi Di loghi Che dici Sì vabbè Che errore Quello non ha senso E specialmente CinemaSins Cioè nel senso Ormai Oltre Oltre al fatto Che i video Sono passati appunto Da 2 a 20 minuti Cioè gli errori Non è più neanche Neitpicking Perché non sono Neanche errori Sono tipo cose Che loro stessi Dicono Ma poi se ti guardi Tutto il film Non sono vere O mettono delle scene Volutamente Per poter fare La battuta simpatica Che però Non è simpatica Sì ma è solo umoristico Sì ma è umoristico Che non fa ridere Quindi è doppiamente tragico Perché non è umoristico E non è critica Cioè nel senso CinemaSins Non vuole dire Tipo Questo film Ha più errori Di conseguenza È più brutto Cercano solo Di far ridere In un loro modo Che può fare ridere O meno E non ho capito Perché così spesso Vengono citati E non dire Tipo È colpa loro Se Tipo nel video Di cui stiamo parlando Se si parla così tanto Di plot holes Fanno una cosa stupida Hanno un grosso seguito Hanno un enorme seguito È vero E il fatto che poi Magari qualcuno Li prenda seriamente Come critiche È ridicolo Ci saranno anche Le persone che lo fanno Ma è un po' ridicolo Però Tolto questo Tornando al video originale Lui si basa un po' Su una definizione sua Di plot hole però Sì Cioè il video iniziale Cioè lui dice Tipo Ah ci sono tantissimi modi Di definire plot hole Però il modo in cui Lo definisco io È questo E noi tratteremo Questo video In base a questo Effettivamente Va a Toccare Dei film Tra l'altro Come hai detto tu Loro Secondo me Bruttissimi Però non importa Dicendo tipo Ah questo Come ha fatto Batman a tornare a Gotham Dopo che il monastero Non mi ricordo di chi È andato a fuoco Non lo spiegano No era Era come fa Nell'ultimo Della trilogia di Nolan Quando esce dal Super carcere A tornare a Gotham Anche se poi C'era gente che Vabbè obiettava Motivando che anche questo Insomma È contestabile Comunque sì scusa Sì ma Però quello non è un plot hole Ma infatti La cosa intelligente Che fa nel video È dire Smettetela di chiamare Plot hole Cose che non lo sono Esatto Però esiste come concetto Il plot hole Ci sono un sacco di film Che hanno dei buchi Di sceneggiatura giganteschi In cui un personaggio fa A Certamente E poi dopo non fa E soprattutto Tutto il suo argomento Crolla un po' Su se stesso Nel momento in cui Come esempio positivo Mi porti The Last Jedi No no Oddio No ma infatti Quel momento Vabbè Doveva capitare E quindi È andata così Però mi aveva perso In realtà un po' Prima Andrea tu l'hai visto Questo video Sì L'ho visto non tutto Però la parte lì Del The Last Jedi L'ho visto Sì Sì Non mi ha convinto Tantissimo Nel senso che appunto Se uno dopo sta a scegliersi La propria definizione Di plot hole Allora non ne viene a capo Perché ti dai la tua definizione E ti dai ragione da solo In generale Io penso che Se un film funziona La prima volta che lo guardi Nel senso che Dici Ha senso Quello che succede Basta Dopo non puoi parlare Di plot hole Perché cosa vuoi Se una cosa ha funzionato La prima volta Ti ha stupito E dopo La seconda volta Che guardi un film Sei già come va a finire Quindi dici No perché non è andato Alla porta sinistra Invece che Quella a destra Sì 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 Uno può guardare Un film che trova eccellente E forte del fatto Di sapere già esattamente Come sarà lo sviluppo Puoi cercare Delle imperfezioni Delle cose Però come diceva giustamente Andrea Se la trama È abbastanza solida Da reggere Alla prima visione Senza che Durante Che durante La visione del film Ne sei tirato fuori O che ti si alza Il sopracciglio Fino al soffitto Bona Poi ci si possono Si possono sempre Trovare difettini O cose Però Infatti difetti Si possono trovare ovunque È vero che Se la prima volta Che guardi un film Non ti viene in mente nulla Non ti viene da pensare Ah questo è un buco di sceneggiatura Questo non lo è Perché il film Ti prende e funziona Benissimo così Sì È vero che però Tipo in quel video Lui dà la motivazione Di tipo State guardando A me non è piaciuto Quando diceva State guardando i film In maniera sbagliata Sì Che un po' lo fa Anche probabilmente Per calcare il personaggio Nel video Però probabilmente Anche la genuinamente Il suo punto di vista Sì È un film Ha una sua storia Che deve portare avanti E va bene Che la porti avanti In qualunque modo E se ti arriva quella storia È andato bene Se ti ha raccontato Quella storia Vuol dire che è un film Che ha funzionato E che non ha dei buchi Di sceneggiatura No Le due cose Non si escludono Sì ma Poi tra l'altro Adesso i film ovviamente Non raccoltano Sempre la realtà Come anche nel caso Di Star Wars Ma diciamo che In realtà Cosa intendi? Che quello è il passato Ah Ok Ok È venuto molto tempo fa In una galassia A parte questo La vita in generale È abbastanza incoerente Nel senso che Quando ti succede una cosa Non stai a pensare A tutte le alternative Che puoi fare Fai la prima cosa Che ti viene in mente Ecco Come reazione Quindi ci sta che In realtà da questo punto di vista I film sono molto fedeli Alla realtà Perché tu Non è che ti fai ogni volta L'analisi I costi e benefici Di cosa devo fare Quando ti succede una cosa Da film O un imprevisto Non so se il concetto è chiaro Vai semplicemente Solo di pancia Esatto E vivere come un gerbillo Un pochino La vita è simile A quella che viene percepita Da un gerbillo Azione reazione È solo istinto Sì Almeno penso La vita vera Non quella che sto vivendo io Dove calcolo tutto meticolosamente Come ogni parola Spero che la tua frase Fosse finita molti secondi Ma invece sta continuando Possiamo dirlo A chi ci sta ascoltando E mi ferita Questa frase è durata 45 minuti Noi l'abbiamo ridotta Esatto Il potere dell'addicting A casa non si capisce Quanto delle volte Sia pesante Per noi interagire con Nick Non lo saprete mai Possiamo parlare di una cosa tipo Media Che media vuol dire bene A volte Sì Ti prego The Good Place Vai mi piace Ok Illuminami No è una serie Che c'è su Netflix La cui star principale È Kristen Bell Che secondo me È un'attrice Che comicamente funziona Un sacco Ultimamente Che tu Andrea Hai visto giusto Non lei La serie Ho visto entrambe Lei l'ho vista solo In appunto Attraverso la televisione Ma ho visto anche la serie Nello specifico Giusto È stata una di quelle cose Da È martedì sera Non so cosa fare C'ho un computer C'è Netflix Guardiamo cosa c'è Che cos'è questo Good Place Guardiamolo E nell'arco di una settimana Mi sono guardato Tutte e due le stagioni Ok Che cos'è questo Good Place? È la storia di quattro persone Che finiscono in paradiso La serie inizia con loro Che sono morti E vengono accettati in paradiso E gli viene spiegato Da un super attore Di cui non ricordo il nome In questo momento Che fa il Christian De Sica È proprio Christian De Sica No è Ted Danson Tullio Solenghi Comunque che è tipo L'architetto del paradiso Dice tipo Ah guarda siete in paradiso E il paradiso è una figata Si scopre subito Che praticamente Le loro quattro identità Le storie Per il quale sono finite Nel paradiso Non sono le storie vere In realtà Soprattutto una Che la protagonista principale Era una pezza di fango Nella vita E non capisce come sia finita Nel paradiso E tutti dicono Tipo Ah tutto quello che hai fatto Per beneficenza Per quelle crisi umanitarie Il tuo lavoro è incredibile Lei dice tipo Ah sì già E deve far finta E poi Non so se posso spoilerare il tutto Però si scoprono delle cose Perché succedono dei casini Eccetera Ed è una Secondo me Una serie Semplice Non fa super ridere Non fa schifo Non ci sono dei plot holes giganteschi È intrattenimento puro Shut up about plot holes Esatto Scusate Non voglio dire Dei buchi di lana Sì Nick L'attore si chiama Ted Danson Mi dicono dalla regia È vero È vero Che però il nome non ci dice nulla Ma ha fatto No Becker Chin Chin CSI Scena del crimine Ha fatto anche tantissime altre cose Ci sta dicendo la pagina Wikipedia Giuro non l'ho mai sentito nominare No ma è una faccia che conosci Loro Sì Se lo vedi non li conosci Ha fatto anche Salvate il soldato Ryan Ridimi un attimo com'è che si chiama Ted Danson Ah Lui Sì Disse loro Mentre guardavo una scatola No poi una cosa bella Nick Che appunto Bella In particolare che Tu dicevi paradiso Ovviamente in realtà È questo Al di là Non religioso Che appunto si chiama The good place Hai ragione giusto E c'è anche the bad place Dove vanno I cattivi Esatto Quindi C'è uno sketch iniziale Molto divertente Che si trova anche Su youtube In cui Dice che tutte le religioni Hanno capito Una piccola parte Di quello che sarebbe La vera vita Dopo la morte Mi piace come sto incipit Sì E c'è questo ragazzo Che invece Una sera si è sfondato Di canne Penso Che è quello che ha capito Più di tutti Di come funzionava L'universo in realtà E quindi hanno L'effigio di questo ragazzo Nell'ufficio principale Ah giusto È vero È vero È vero Me l'ho dimenticato Chi fosse quel personaggio Wow Quindi Tra l'altro Andrea Hai appena vestito I panni Di una figura Importantissima In Power Pizza Ovvero Quello che corregge Le piccole inesattezze Di Nick Un secondo Dopo che le ha dette Quindi Grazie Ma ormai che non l'avevo visto Questo spiega molto Beh ragazzi Questa è la quindicesima prova Che facciamo Dai Intendevo il primo take Live Soltanto live Dalla casa di Power Pizza Live Siamo live Secondo me Dicevo La prima stagione Mi è piaciuta È media Nel senso È piacevole E scorre La seconda stagione Non riesco a capire Come sia possibile Mi dà la sensazione Che chi ha scritto La sceneggiatura E chi ha scritto I dialoghi Siano due persone separate What Perché La sceneggiatura È sugli stessi livelli Della prima Funziona Scorre Ha una sua storia Un suo capo Una fine Eccetera Però ci sono delle perle Nei dialoghi Che secondo me Sono a livello comico Molto migliori Ah wow E sembra veramente Che tipo Abbiano inserito Delle battute Che funzionano tantissimo E che ti fanno super ridere Dentro una sceneggiatura Che non le aveva Beh ma scusami Gli scrittori Guardato Sono gli stessi Della prima serie Non ho assolutamente guardato Quindi ok No non lo so Però ti dico La seconda stagione Mi ha colpito per quel Io non sapevo nemmeno Ci fosse una seconda stagione Ah tu non hai visto la seconda Adesso si scoprirà Che in realtà hai guardato Una cosa diversa No 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 sicuro Ah forse nella seconda stagione Si chiama paradiso Cosa? No non è Non funziona così Però c'è la seconda stagione Sono di nuovo tipo Dieci episodi Una cosa simile Dodici Scusate Ha delle perle Incredibili Io mi sono trovato Immaginate che La mia faccia Durante tutta la prima stagione È stato un sorrisetto Compiaciuto di Che storiella E invece nella seconda stagione Era sempre il sorrisetto E poi mi pisciavo addosso Da ridere E poi tornavo al sorrisetto E poi in un altro È un po' un tema ricorrente Nelle ultime puntate Tu che ti pisci addosso Beh non so come Come voi facciate A espellere le urine Io di solito devo trovare Delle cose che mi fanno ridere E guardarle Finché non posso Finalmente liberarmi Di questo peso Il caso clinico Ok ok Comunque The good place Pollicino alzato Bravi Quanti Quante emoji del pesce? Sono felice di questo podcast Anche solo perché ho scoperto Di questa seconda stagione Davvero Grazie ragazzi Prego Prego Siamo qua per questo Anche per altro Se vuoi tipo un chilo di pane Loro sa dove prenderlo Siamo qua per consigliarvi delle cose E Voglio prendere le vostre ordinazioni Per il pane A quanto pare Visto che oggi abbiamo A parte parlato Troppo del nulla Come al solito Tranne Andrea Che invece ringraziamo Perché è una persona accolta Ma quasi solo di cinema E serie televisive Posso dire tipo solo una cosa Su un videogioco? Prego Yes Però basta che non sia Una di quelle cose violente Di voi giovani Che io non le sopporto più Signora mia Devi dire signora mia È uscito Sai che è uscito Spider-Man Della Insomniac? Che non ho ancora iniziato E volevo solo dire Che il gioco Sarà bello Credo Non lo so Ma Kotaku È riuscito Sempre Si riconferma sempre Come ormai A un livello infimo Prima si parlava Di CinemaSins Che omette delle cose Per poter fare Delle battute Che comunque Non fanno ridere Kotaku È riuscito A lamentarsi Di come il gioco Tratta i poliziotti Tipo Scrivendo un rant In cui diceva Non è per niente bello Che ignorino la realtà In cui i poliziotti Sono cattivi E sparano alla gente Nel gioco invece Aiutano Spider-Man E tipo il gioco si apre Con dei poliziotti Corrotti Che sparano a Spider-Man Quindi grazie Kotaku Per le risate Come al solito Wow Penso che questo Voglia dire Che io teoricamente Potrei lavorare da Kotaku Potrei essere tipo Un content editor Penso che chiunque Potrei dire tipo Ah questa cosa Non è vera A quanto pare IGN Kotaku Negli ultimi anni Sì Cioè potremmo diventare Tipo editori in chief No Che bello Facciamolo Ok Avevo giocato anni fa Al gioco di Spider-Man Quando il cattivo Era ancora Aspetta era quello tipo Per la Play 2 Sì avevo l'Xbox Che era la versione Dei poveri Era la Play 2 Dei poveri No Era bellissimo Perché giravi per New York E quindi vorrei riprendermelo Ma dovrei comprarmi Anche una Playstation Perché non ce l'ho più Purtroppo Ma tra l'altro Io ho visto che Hanno fatto dei lavori Cioè un lavoro eccezionale Con La reattività Con il quale Ti puoi muovere In giro per New York Eccetera eccetera Sì dicono che Un buon Un buon Una buona fatta del gioco È proprio il fatto che New York è ricostruita Molto bene Ha detto anche Di new yorkesi E il Girare Il free roaming Via ragnatele Funziona molto bene E ho visto un video In cui tipo Tutti hanno iniziato A criticare Come hanno gestito La fisica dei fluidi No che È iniziato tutta Dalla cosa Che se ti lanci Dal grattacielo Più alto di New York Sull'acqua Senza ragnatele Facendo tipo Una capriola Eccetera eccetera L'acqua diventa solida E c'è tutta una serie Di critiche Che vengono fatte Su questa cosa Ma è un glitch Non è che Ah beh Hanno sbagliato Anche questa volta A gestire la fisica Dei fluidi Cosa Cosa vuol dire Fisica Quindi fisica Dei fluidi Pessima E la polizia È buona Non come nella realtà Un pesce su cinque Direi di sì Un pesce su cinque Sì L'ultima volta Mi sono tipo Sono super invastidito Quando si inventa queste cose Poi però sono stupido E sono il primo ad adottarle Involontariamente Bene ma che bella puntata Che abbiamo fatto ragazzi Sono così felice Andiamo a Non so come siamo passati 40 minuti onestamente Con piacevole trascorrenza Andrea Andrea Cosa dirti Grazie Per essere stato con noi E per esserti fatto parlare Soprattutto Il tempo Scusaci Che è il nostro È sempre il nostro Modo di dare Il benvenuto Agli ospiti Che introduciamo In maniera altisonante Poi non li facciamo parlare No no È vero È un privilegio Per me Anche solo Essere qui E potervi Vedere Vedere le vostre Voci vibrare Sai che adesso Tipo potrei dire Alla gente Che sei tipo Il sostituto di Sio O puoi dire Semplicemente Che sei Sio Sì Pare che legalmente funzioni Sì sì infatti Sono d'accordo Vado a editare Alla pagina Wikipedia Tipo Aspetta Sio non ha davvero Una pagina Wikipedia Sì Ce l'ha davvero Ce l'ha in più lingue Tra l'altro Ah ok Una è la lingua dei cani È una pagina Dove ci sono solo Degli abbai E dei latrati C'è la pagina Wikipedia Nella lingua dei segni Cotto Eh aspetta Cosa Le pagine Wikipedia Ma nella lingua dei segni E cosa ci sono Cosa sono Delle foto di mani Delle foto di mani Lunghissime Non lunghissime mani Delle lunghissime foto Lunghissime pagine di mani Wow Wow Questa cosa è bellissima Penso che Capisco adesso Da dove hanno tratto ispirazione Per fare tipo Le pose di Naruto Per quando ti No Loro non accetta Questa battuta Grazie per essere stati con noi Anche oggi Su Power Pizza Esatto Vi salutiamo Nick Da i contatti Per tutto quanto Già il mio numero di telefono È 3412 Seguiteci su Power Pizza Oppure tipo su quell'account Fasullo di Instagram Che si ha creato Che è Power Pizza Podcast 111 222 333 Io spero che si stufi di usarlo prestissimo Così posso smetterla di taggare Sai che cosa succederà Grazie mille ad Andrea H.Sesta www.powerpizza.it È sempre il posto dove essere È vero Grazie ad Andrea Sesta Grazie, grazie, grazie Grazie a voi amici È stupendo Siete magnifiche Andatevi a vedere Che cosa fa nella vita Andrea H.Sesta E soprattutto Credete a tutto quello che scrive E credete tutto a quello che dice Esatto Esatto, sì Ah, ciao amici Addio Ciao ragazzi Alla prossima Ciao ciao